Ci sono state polemiche anche vibranti soprattutto quando a guidare l'assessorato all'ambiente c'era ancora la DEM grazie a Robilatte al centro del contendere i numeri del piano economico finanziario che definisce il costo effettivo del servizio rifiuti ancora in proroga a Tecra. Anche dalla maggioranza in più occasioni sono arrivate richieste di avere a disposizione le carte del PEF così da valutarle. Alla fine però il documento non vedrà l'aula consigliare seppur solo in remoto il piano economico finanziario non è stato trasmesso alla presidenza della Sese Civica entro il termine fissato per essere poi inserito all'ordine il giorno della seduta fissata per oggi. Al presidente Sammito nel corso di interlocuzioni con il dirigente Alberto De Petro il segretario generale Giovanna Divono è stato spiegato che l'avvenuta approvazione della taria e delle tariffe confermate rispetto a quelle già predisposte lo scorso anno dal commissario straordinario ha sostanzialmente chiuso il cerchio. Il PEF seguendo i dettami della nuova disciplina è stato valutato ed esitato favorevolmente dal CDA della SRR4 che lo ha poi trasmesso all'arera. Non sono quindi previsti passaggi in consiglio comunale. Se ne riparlerà il prossimo anno quando eventualmente si ponesse l'esigenza di adottare nuove tariffe. Si pensava che la seduta di fine anno del consiglio comunale con il PEF all'ordine del giorno potesse determinare una certa tensione politica soprattutto davanti ai numeri del servizio rifiuti. Così invece non sarà visto che il piano economico finanziario non arriverà all'assise civica.